Buonasera, sono io lo chef del Mediterraneo. Cosa troviamo sotto i riflettori? Una bella torta gelato ai frutti di bosco. Vorrei ricordare a loro signori che i frutti di bosco, le more, mela grana, rientrano nell'alimentazione salutare. Questi lo sanno i medici, i biologi, tutti quelli che studiano, quelli laureati in scienze dell'alimentazione. Perciò perché Gianvrango Lombardi si ciba di queste cose, perché comunque contengono i famosi antiossidanti. Ecco, mi rivolgo a tutti i cervelloni che pensano che Gianvrango Lombardi è ignorante, invece non è così. Gli antiossidanti. Ecco, mangiamo prima un pezzettino con la forchetta. Vabbè, giusto? Ecco, adesso vi faccio sapere com'è. Vediamo, assaggio. A posto è buono. E poi, e poi mangiamo con il cucchiaino. Buonissimi. Veramente squisiti. Mamma mia. Rotti di bosco, ecco qui, i famosi antiossidanti. Ecco, vediamo. Una delizia. Veramente qualcosa di stupendo per il palato. buonissimo. Vediamo. Lo dedichiamo a tutti quelli che ci vogliono bene. Ecco. Vediamo. qualcosa di straordinario. Vediamo. No. Noi siamo quello che mangiamo. Premesso che la cucina è poesia e amore non è solo alimentazione, ma la cucina è anche poesia e amore. I frutti di bosco esprimono questo. Fanno parte della frutta, quella della salute. Perciò è alimentazione salutare. Lo chef del Mediterraneo e l'artista del Mediterraneo, Gianvrango Lombardi, vi saluta alla prossima puntata, alla prossima puntata, alla prossima trova. A tutta l'ora, madame, a tutta l'ora, e alla prossima puntata. Grazie. Grazie.